Presentata la seconda edizione di Campania Wine, un evento unico dedicato al vino campano nel cuore di Napoli, in programma l'11 e il 12 giugno. La rassegna è promossa e organizzata in cooperazione dai cinque consorsi di tutela vino della Campania, nonché il consorzio di tutela pomodorino del pieno lo Vesuvio DOP, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere i vini a indicazione geografica della Campania e i loro produttori e attori, attraverso un suggestivo itinerario di conoscenza esperienziale rivolto ad esperti, giornalisti del settore, addetti ai lavori e appassionati del mondo del vino. Degustazioni, masterclass, seminari, wine tour, wine talk e wine forum per giornalisti, operatori e wine lovers. La presentazione dell'evento a Palazzo Santa Lucia, alla presenza degli assessori Caputo e Santa Gada. Un grandissimo evento, una grande occasione per dimostrare alla città, alla regione ma a tutto il paese la forza del nostro sistema vitivinico. Abbiamo un settore molto vivace, abbiamo delle aziende che sono davvero avanti, dobbiamo sfruttare questa scia e anche cogliere questa occasione di grande sinergia che c'è tra i consorsi. Non si è mai verificato prima che sei consorsi si mettessero insieme e sviluppare sempre maggiormente la nostra economia legata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Noi stiamo facendo un grande sforzo per sostenere la nostra cosiddetta DOP economy. Il vino è il punto di riferimento e testimone al vero della produzione agroalimentare della nostra regione. Siamo passati dal turismo per Napoli al turismo per lo Scudetto, adesso al turismo per il vino. Sono tutte delle fette di turismo che rappresentano delle attrattività per la nostra città. Il vino appartiene a quella che è la storia di questa zona, di questa comunità, di questo territorio ed è necessario valorizzarlo e riportarlo e esaltarlo anche quelle che sono le caratteristiche anche dal punto di vista non solo alimentare ma anche dal punto di vista delle proprietà benefiche e chiaramente bevuto nelle giuste dosi.